Grazie. Grazie. Noi con questo abbiamo detto basta, serve una grande mobilitazione alle coscienze per costringere i persone alla carica a fine di compiere ogni sforzo affinché la pena di morta Italia deva loro. Grazie. Allora il segretario Misina ha già toccato diversi punti che affronteremo più dettagliatamente. Questa riforma non tocca le condizioni per procedere all'intercettazione telefonica. E' qui che c'è interesse per la proposta dell'Italia dei Valori. ...a sviluppare sempre di più una forte coscienza critica nei confronti della mafia. Diciamo che è stata una battaglia vinta. ...quelli che sono condimenti... ...quelli che sono condimenti... ...quelli che è sfasciato. Che grazie.